Siamo alla cronaca, c'è stata un'operazione di polizia sui saccheggi e le devastazioni che sono avvenuti nel centro di Torino durante una manifestazione contro le restrizioni governative per la pandemia il 26 ottobre scorso. Tra i responsabili ci sono diversi minorenni con precedenti alle spalle. Ragazzi di periferia che sfidano il mondo andando in centro a Torino a devastare e saccheggiare. Sono stati individuati i responsabili dei danneggiamenti di negozi, auto e strade lo scorso autunno. Tutti giovanissimi, 13 addirittura minorenni e tutti provenienti dalle periferie più disagiate del capoluogo, molti con precedenti. All'alba di oggi sono scattate le perquisizioni. Alcuni sono stati trovati in possesso di droga o armi come coltelli. 12 sono stati arrestati e misure restrittive nel complesso sono scattate per 37 persone per i reati di saccheggio e devastazione. Il più giovane ha 15 anni. La sera del 26 ottobre scorso, dopo un corteo indetto da commercianti contro le misure anti-covid, iniziarono le devastazioni ma gli organizzatori della manifestazione erano del tutto estranei a quello che accadde dopo. Una guerriglia urbana, dicono gli inquirenti. Dieci agenti rimasero feriti e fu sottratta a merce dalle boutique del centro per un valore complessivo superiore ai 200.000 euro. Un ride di cui molti si vantarono poi sulla pagina social Torino Criminal Page il giorno dopo, rivendicando l'appartenenza a Barriera di Milano, una delle banlieue del capoluogo piemontese. Erano gruppi auto-organizzati come quelli che agirono nella piazza San Carlo affollata di tifosi nel giugno 2017. E anzi, uno dei fermati di oggi fa parte della banda dello Spray che scatenò il panico quella sera per fare razzia di portafogli e catenine. I fermati di oggi sono in maggioranza nordafricani, molti immigrati di seconda generazione, poi qualche italiano e rumeno. Si erano dati appuntamento sui social per compiere una razzia in centro, sfruttando l'occasione della manifestazione, quasi un gesto di rivalsa della periferia più calda della città. Il ministro dell'Interno, Lamorgese, ha espresso soddisfazione per l'operazione di oggi. Dà una risposta alla città e ai commercianti, ha detto, duramente colpiti in una situazione di emergenza sanitaria in cui le categorie sono già sottoposte a notevoli sacrifici. Non è stata una ragazzata, ma una violenza animalesca e i fermati dovranno rispondere di reati gravi. Non siamo alle baglie parigine, ha detto il questore Giuseppe De Matteis, però dobbiamo monitorare questo fenomeno per impedire, in un domani non troppo lontano, di avere a che fare con problemi analoghi.